Ornella Vanoni, l'iconica cantante italiana, ha raggiunto un traguardo straordinario il suo novantesimo compleanno. Questo è un momento per celebrare una vita dedicata alla musica, una vita che ha toccato milioni di persone con la sua bellezza e profondità. 90 anni di risate, di lacrime, di trionfi e di prove, tutti intrecciati nel ricco arazzo di una vita ben vissuta. Questo compleanno non segna una fine, ma una vibrante continuazione di un viaggio pieno di passione e arte. La carriera di Ornella ha attraversato decenni, testimoniando l'evoluzione della musica e della cultura italiana. Dagli esordi nei locali milanesi al suo attuale status di icona amatissima, è rimasta una costante fonte di ispirazione. La sua voce, uno strumento senza tempo, ha portato il peso delle emozioni, traducendo le esperienze della vita in melodie che risuonano profondamente nell'anima. La sua musica è diventata la colonna sonora di innumerevoli vite, a testimonianza del suo potere duraturo. Durante la sua lunga e illustre carriera, Ornella ha abbracciato il cambiamento, reinventandosi costantemente pur rimanendo fedele al suo nucleo artistico. Ha navigato nel panorama in continua evoluzione dell'industria musicale, con grazia e resilienza, adattandosi alle nuove tendenze pur mantenendo il suo stile unico e inconfondibile. Questa adattabilità le ha permesso di rimanere rilevante e di entrare in contatto con generazioni di fan. La sua musica trascende il tempo, parlando all'esperienza umana universale. Questa celebrazione del novantesimo compleanno è un riconoscimento non solo della sua età, ma del suo spirito indomito, della sua incrollabile dedizione al suo mestiere e del profondo impatto che ha avuto sul mondo della musica. È una testimonianza del potere dell'arte di trascendere i confini e di connetterci tutti. È la celebrazione di una vita vissuta pienamente e appassionatamente, una vita che continua a ispirare. Mi sento giovane come ieri, ha dichiarato Ornella in un recente video sui social media. Questa affermazione racchiude il suo spirito vibrante e il suo rifiuto di essere definita dall'età. Parla di un'energia giovanile che irradia dall'interno, una gioia di vivere che continua a brillare intensamente. Questo spirito giovanile non è semplicemente una facciata, è il riflesso del suo mondo interiore. La visione giovanile di Ornella è di ispirazione per tutti noi, un promemoria che l'età è solo un numero. È una testimonianza del potere di una mentalità positiva e dell'importanza di abbracciare la vita con entusiasmo e gioia. È un promemoria che lo spirito può rimanere giovane, indipendentemente dal passare del tempo. Le sue parole risuonano profondamente, portando un messaggio di speranza e vitalità. Il suo continuo impegno con i suoi fan, la sua volontà di abbracciare nuove tecnologie e stili musicali, e la sua incrollabile passione per il suo mestiere, contribuiscono tutti a questo senso di eterna giovinezza. Rimane curiosa, aperta a nuove esperienze, e desiderosa di connettersi con il mondo che la circonda. Questo approccio alla vita di cuore aperto, alimenta il suo fuoco artistico e mantiene giovane il suo spirito. La dichiarazione di giovinezza di Ornella, non è una negazione del passare del tempo, ma piuttosto un'affermazione del potere duraturo dello spirito umano. È una celebrazione della bellezza di invecchiare con grazia, di abbracciare ogni nuovo giorno con un senso di meraviglia e gratitudine. È un messaggio potente che risuona con persone di tutte le età. La carriera di Ornella Vanoni è stata costruita su una base d'amore. Amore per la musica, amore per i suoi fan, e amore per l'arte della performance. Questo amore è palpabile in ogni nota che canta, in ogni gesto che fa sul palco, e in ogni interazione che ha con il suo pubblico. È un amore che l'ha sostenuta durante la sua lunga e illustre carriera. Il suo profondo legame con i suoi fan è una testimonianza del potere della musica, di superare i divari e creare legami duraturi. Ha coltivato una relazione con il suo pubblico basata sul rispetto reciproco, sull'ammirazione e sull'amore condiviso per la forma d'arte. Questa connessione è stata fonte di forza e ispirazione per Ornella durante il suo percorso. Durante la sua carriera, Ornella ha generosamente condiviso il suo dono con il mondo, riversando il suo cuore e la sua anima in ogni performance. Comprende il potere della musica di guarire, ispirare e connetterci tutti. La sua dedizione al suo mestiere è evidente nella cura meticolosa che ha per ogni canzone, ogni nota, ogni parola. Le sue performance non sono semplici concerti, sono esperienze che toccano l'anima. Questa eredità d'amore è ciò che distingue Ornella Vanoni. Non si tratta solo di musica, si tratta del legame che crea con il suo pubblico, delle emozioni che evoca e dei ricordi che contribuisce a creare. È un'eredità che continuerà a ispirare le generazioni a venire. È una testimonianza del potere dell'amore, di trascendere il tempo e toccare le vite in modo profondo. Sezione 4. La forza dei fan. È l'amore dei miei fan che mi ha fatto andare avanti. Ha condiviso Ornella, riconoscendo il ruolo vitale che i suoi sostenitori hanno avuto nella sua lunga e proficua carriera. Questo sentimento sottolinea il profondo legame che ha con il suo pubblico. Un legame che ha nutrito il suo spirito e alimentato il suo fuoco artistico. Il loro incrollabile supporto è stato una costante fonte di forza e ispirazione. Ornella riconosce che i suoi fan sono più che semplici ascoltatori passivi. Sono partecipanti attivi nel suo viaggio musicale. I loro applausi, il loro tifo, i loro messaggi di supporto e la loro incrollabile lealtà le hanno fornito la motivazione per continuare a creare, a superare i limiti e a continuare a condividere il suo dono con il mondo. Il loro amore è stato una forza trainante. Il rapporto tra un artista e i suoi fan è un legame unico e potente. È un rapporto costruito su passione condivisa, rispetto reciproco e profondo apprezzamento per il potere della musica. Ornella comprende questa dinamica e apprezza il legame che ha con i suoi fan. Li vede come un'estensione della sua famiglia artistica. In un mondo che può spesso sembrare isolante, il legame tra un artista e i suoi fan può fornire un senso di appartenenza e comunità. I fan di Ornella sono diventati una fonte di forza e supporto, un costante promemoria dell'impatto che la sua musica ha avuto sul mondo. Il loro amore è stata una luce guida durante il suo viaggio. Sezione 5. Un rinascimento moderno. A 90 anni, Ornella Vanoni non si riposa sugli allori. Continua ad evolversi come artista, abbracciando nuovi suoni e collaborando con le giovani generazioni di musicisti. Il suo ultimo album è una testimonianza di questa continua evoluzione, mostrando un tocco moderno al suo stile classico. È una dichiarazione audace della sua continua crescita artistica e del suo rifiuto di essere confinata dalle aspettative. Questo nuovo album non è solo una raccolta di canzoni, è una dichiarazione di intenti, una dichiarazione che Ornella Vanoni è ancora una forza vitale nell'industria musicale. È una testimonianza della sua volontà di sperimentare, di correre rischi e di spingere i confini della sua arte. Questo spirito avventuroso è ciò che mantiene la sua musica fresca e attuale. Collaborando con artisti più giovani, Ornella colma il divario tra le generazioni, creando un dialogo musicale che è sia emozionante che innovativo. Abbraccia l'energia e la creatività delle nuove generazioni, condividendo al contempo la sua vasta esperienza e saggezza. Questa collaborazione intergenerazionale si traduce in un suono unico e vibrante. Questo nuovo album è una celebrazione della duratura arte di Ornella e della sua capacità di adattarsi ed evolversi, rimanendo fedele a se stessa. È un dono per i suoi fan, un promemoria che sta ancora creando, ancora innovando e ancora appassionata del suo mestiere. È una testimonianza della qualità senza tempo della sua musica. Sezione 6. I molti volti di Ornella Ornella Vanoni è un'artista poliedrica, capace di esprimere una vasta gamma di emozioni attraverso la sua musica. È felice, triste, gioiosa e drammatica. A volte tutto nell'arco di una singola canzone. Questa profondità emotiva è ciò che rende la sua musica così riconoscibile e così profondamente commovente. È un riflesso della complessità dell'esperienza umana. La sua capacità di incarnare queste emozioni contrastanti è una testimonianza della sua abilità come performer e della sua profonda comprensione della condizione umana. Non si sottrae alla vulnerabilità. La abbraccia, permettendosi di essere pienamente presente in ogni momento, gioioso o doloroso. Questa autenticità è ciò che la connette con il suo pubblico a un livello così profondo. La sua musica esplora l'intero spettro delle emozioni umane, dalle vette della gioia e dell'amore, alle profondità della tristezza e della disperazione. Canta di crepacuore e speranza, di perdita e resilienza, di sogni e delusioni. Le sue canzoni sono uno specchio delle nostre vite, che riflettono le gioie e i dolori che tutti noi proviamo. Questa gamma emotiva è ciò che rende Ornella Vanoni un artista così avvingente. Ci invita a sentire, a connetterci con le nostre emozioni e a trovare conforto nell'esperienza umana condivisa. La sua musica ci ricorda che non siamo soli nelle nostre gioie e nei nostri dolori, che siamo tutti collegati dai fili dell'emozione umana.